Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e mamma mia ragazzi, continuano tutte le news e i leaks riguardanti il nostro tanto amato Fortnite. Nel video di oggi avremo un bel po' di notizie sul terremoto, su quello che sta succedendo, sulle crepe che stanno pian piano invadendo una porzione specifica di mappa. Parleremo anche delle nuove modalità a tempo limitato, sono davvero tantissime ragazzi, trovate nei file di gioco. Voglio farvene vedere un paio davvero super interessanti e ragazzi, fase 4 del prigioniero. Oggi, questo pomeriggio, sembrerebbe che arriverà l'ultima fase del prigioniero. Vi spiegherò tutto in questo video. Intanto vi ringrazio di cuore per supportarmi durante le vostre scioppazzate violente nello shop col mio codice XIUDERONE. Grazie davvero di cuore, mi raccomando, iscrivetevi tantissimi al canale. Non dimenticatevi ragazzi di lasciare un bel like e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna news. La prima la domanda ragazzi. Ed è una domanda, non posso non farvi la domanda raga, ci tengo tantissimo ai vostri commenti, proprio qui sotto. E la domanda è davvero molto interessante. Che cosa ti aspetti dalla season 8? Cosa pensate che succeda ragazzi? O meglio, cosa vorreste che succedesse? Forse è un po' più bella detta così. Beh, io credo ragazzi che sia scontato ovviamente Che il terremoto e le crepe formeranno prima o poi un distaccamento da parte della mappa O meglio di una buona porzione di mappa Mi aspetto davvero un bel po' di cose inerenti all'acqua Anche perché, se ci pensiamo, la season 8 ci porterà fino ben oltre la primavera Quindi potrebbe già essere un qualcosa di inizio per l'estate Fatemi sapere ragazzi qua sotto nei commenti cosa ne pensate Ma quindi, ciancio alle bande E banda alle ciance Andiamo subito subito ragazzi a vedere un po' com'è la situazione qua su Fortnite Perché non abbiamo ancora capito com'è la storia Allora, questa è una bellissima fotografia presa da una panoramica Come vedete siamo praticamente Dietro di noi c'è Bosco Blaterante Per farci capire E in questa foto ragazzi cominciamo già a notare una delle crepe Una veramente bella grossa Che sembrerebbe porterà anche al crollo di quel ponte lì ragazzi Quello che appunto sta sul fiume Fiume che potrebbe essere fondamentale ragazzi Per la season 8 Ne abbiamo un'altra di crepa invece Proprio là sopra ragazzi Sopra il Tempio Tometo E anche lì siamo sempre vicini all'acqua Terza crepa Anche se sono quattro Qua la quarta non è presa In modo da farvi vedere meglio Terza crepa ragazzi Che rimane praticamente Dalla parte opposta del fiume Fino a passatempi pomposi Come vedete Cominciano già a formare Per lo meno le due crepe di lì Un disegno potrebbero già davvero essere molto molto interessanti E sicuramente le prossime non tarderanno ad arrivare Voi volete sapere quando? Vi faccio vedere questo ragazzi Pronto Questa ragazzi è la tabella ufficiale Di tutte le 25 crepe Che si creeranno nella mappa Vi spiego come leggere questa tabella In modo che possiate Anche voi sapere il momento esatto Quelli sono gli orari delle crepe E gli orari sono nel Nell'est time Quindi bisogna contare 6 ore in più Ok? Noi siamo 6 ore avanti Indicativamente La prossima crepa Dovrebbe arrivare Ve lo dico Aggiornato Nel momento in cui state vedendo il video Alle 7 e mezza Adesso voi lo state vedendo Il video è uscito alle 7 e un quarto Alle 7 e mezza c'è la prossima crepa Poi ce n'è una Alle 8 di sera Quindi alle 20 di questa sera Ci sarà un'altra crepa E man mano che voi leggete Vedete noi siamo adesso In questo momento Stiamo aspettando la crepa numero 5 Quindi leggete il numero C'è anche la data Addizionate 6 ore E sicuramente capirete Quando arriveranno tutte le crepe Non sappiamo dove Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo invece di quello Di cui vi ho anticipato Nel prologo Ovvero sia La possibilità Di ottenere Oggi La quarta fase Del prigioniero Perché dico questo Meglio non lo dico io Ma lo dicono i leakers Lo dico anche io Perché Questo pomeriggio Quindi come vedete Allora qua dice Tra 17 ore In questo momento Sono le 11 e mezza di sera Quindi nel primo pomeriggio Di oggi Verso metà pomeriggio Arriveranno le tre sfide Delle sfide a tempo straordinario E come vedete La terza sfida Ha Una schermata di caricamento Quindi Vedete che c'è un punto di domanda Avete capito Qual è la schermata di caricamento? Dai che l'avete capito La schermata di caricamento Ovviamente Che verrà proposta È quella Che state vedendo In questo momento E l'abbiamo già vista ieri L'abbiamo vista anche Già due giorni fa È praticamente Il prigioniero Nella fase finale Che comincia A fare Casino Volete sapere ragazzi Uno spoiler Ve lo dico subito Lo spoiler Dove si otterrà La fase del prigioniero Poi faremo un altro video Le fonti Dicono Che quella È la posizione Corretta Di Dove si potrà ottenere La fase del prigioniero Ci sono delle rocce Messe in cerchio Lì e vanno proprio A Richiamare L'immagine Che vi rifaccio vedere Un'altra volta Che è questa In poche parole Come vedete L'immagine è molto simile A quella location Lì Sembrerebbe Che si potrà ottenere La fase Del prigioniero Ovviamente Ci farò Un bel video dedicato Ma andiamo avanti E parliamo anche Raga Questa è una notizia Sbrang Parleremo Del Del driftboard Lo stiamo aspettando Davvero Da parecchio Oramai Alcuni se lo sono Dimenticati Altri lo chiedono Insomma ragazzi Driftboard Bisogna capire Quando arriva Ed è stata trovata Ragazzi Questa cosa Nei file di gioco Ed è una Quattro righe Quattro righe Interessantissima È la descrizione Di una modalità A tempo limitata Che si chiama Drifting Quindi molto Molto semplice Abbiamo anche La descrizione È A terra Vicino A un Red supply drops A una Mongolfiera Rossa Prendi Un driftboard E alcune armi E Insieme al tuo team Andate a Killare I nemici L'ultimo Che rimane in piedi Sopravvive Sto per farvi vedere Un'immagine Ragazzi Assurda Mi tengo Mi tengo Mi tengo Mi tengo Questa è un'immagine Vera Ragazzi Arriva Non sappiamo Da dove Ma guardate Un po' Sbronk Ho coperto I nomi Cioè Erano già coperti Ma li ho voluti Togliere Per evitare Qualsiasi cosa Questa ragazzi È un'immagine Che probabilmente Arriva Dall'interno Di epic game E mostra come sarà Il supply drop Di cui si parlava Ragazzi Come vedete Ci sono Attaccati Dei drift Board Quindi potrebbe Essere davvero Così La fonte Super attendibile E ovviamente Ragazzi Non vedo l'ora Di vederlo In atto Tra l'altro Se andate Nelle vostre Impostazioni Dei comandi Troverete Ragazzi Che ci sono Già Due voci Riguardanti Il drift Board Quindi ci dice Incremento Drift Board Penso che sia L'aumento Della velocità E lascia Drift Board Quindi appunto Per scendere E poter Muoversi A piedi Quindi ragazzi Tanta Tanta Roba Chiudo Dicendo E facendovi Vedere Questo Che è un piccone Che deve essere Ancora rilasciato Perché vi faccio vedere Questo piccone Perché ragazzi Se noi giriamo Se noi giriamo Il piccone Come vedete C'è sotto Il cartello Che ho scritto Tilted Che significa appunto Pinnacoli pendenti E c'è un disegno Sopra Scritto Volutamente A A Wright No A Pennarello Che dice Delete Delete Tilted Per l'ennesima volta La minaccia Su Tilted Tower È Imminente Beh ragazzi Io vi ringrazio Tantissimo Per avere guardato Questo video Spero che le news Vi siano piaciute Mi raccomando Iscrivetevi In tantissimi Al canale Lasciate un bel like Noi Ci vediamo presto Ciao Ciao